Queste sono le serre di platano di banane, le serre di banane. E lì ci sono le banane che sono protette dalle serre evidentemente per proteggerli da vento, piove già da calamità naturale in genere di insetti, credo, e anche per tenerli in un clima piuttosto caldo, ecco, più caldo di quello che c'è all'esterno. Questo accade al sud di Tenerife, nella zona di Arona. Qui ci sono altre banane che sono all'aperto, come vedi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Anche a quei banane coperte sotto le serre. Guardi guancho. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.